Un attimo, vi devo dare un alluncio che è molto importante perché riguarda tutti voi che ci seguite ogni giorno con tanto interesse sulla 7. La 7, come sapete, sta cambiando frequenza. Se premendo il tasto 7 del vostro telecomando dovreste ancora vedere la denominazione alla 7 provvisorio, vuol dire che dovete aggiornare la lista dei canali per sintonizzare la 7 in maniera corretta. Se tutto questo, diciamo, una volta che provate a risitorizzare non avvenisse, allora chiamate un tecnico di vostra fiducia, ma nel frattempo potete continuare a seguire temporaneamente la nostra televisione, la 7, sul canale 107.